Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Delle belle giornate simil estive ci aspettano nei prossimi giorni. È davvero incredibile vedere come l'anticiclone di matrice africana si estenderà proprio a partire dalla settimana prossima in direzione di tutta l'Europa centro-settentrionale. Vedete che proprio i massimi saranno posizionati fra la Spagna e la Francia. Mentre le circolazioni depressionarie sono costrette a fare proprio una migrazione verso i paesi più settentrionali scandinavi per poi scendere in direzione della Russia. Cosa succederà nei prossimi giorni? Che vivremo delle giornate tipicamente estive. Cosa vuol dire? Che le temperature per il periodo saranno decisamente sopra la media anche di 4-5 gradi. Pensate che lo zero termico proprio per questo anticiclone di matrice africana si sposterà fino a 4.000 metri di altitudine. Quindi uno zero termico tipicamente estivo. Certo non avremo delle punte di calore eccessive. Siamo comunque in novembre. Però le temperature saranno più che miti. Soprattutto in montagna. Con punte di 20 gradi pensate anche nella città di Clusone. Ecco vediamo anche l'evoluzione proprio per i prossimi giorni che vedranno questo anticiclone posizionare i massimi fra la Sardegna e la Corsica. L'unica insidia che prevediamo sarà la nebbia che via via si farà sempre più densa soprattutto sulla valle Padana. Quindi vedete tutte queste nebbie che nei prossimi giorni si estenderanno dalla pianura Padana vedete fino alle valli interne della Toscana. Mentre chiaramente noi che viviamo in un terreno montuoso vivremo delle belle giornate di sole e davvero molto calde per il periodo. Ma andiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domani. Che dire siamo in compagnia dell'anticiclone. L'anticiclone africano che ci abbraccia e porta bel tempo prevalente su tutto il nostro territorio con temperature miti per il periodo. Punte di 18 gradi già per domani a Clusone e anche 19-20 gradi nella città di Clusone. Uno zero termico vedrete che nel pomeriggio addirittura schizzerà intorno ai 3.900 metri di altitudine. Quindi ripeto uno zero termico tipicamente estivo. Anche nella zona della medio-bassa Valle Seriana, Lago di Seo, così come in Valle Camonica, splenderà il sole per tutta la giornata con al più qualche locale velatura nella zona della più bassa Valle Seriana. Andiamo all'evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana. Come andrà? Abbiamo detto sarà una settimana di bel tempo, bel tempo per tutta la settimana. Lunedì cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, vedete, con temperature a Clusone comprese tra i 10 gradi di minima e i 19 gradi di massima. Zero termico a valori ragguardevoli, 3.800 metri di altitudine. Quindi per trovare gli zero gradi dovremo addirittura salire oltre quasi al livello del Monte Bianco. Quindi martedì avremo cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, pressione atmosferica in lento calo. Vedete i valori comunque si mantengono molto alti, intorno ai 1024 millibar. Un'attendibilità della previsione molto alta perché l'anticiclone sarà sicuro sul nostro territorio. Mercoledì e giovedì abbiamo indicato stabilità atmosferica. Non cambia niente, questo anticiclone rimane immobile sul nostro territorio. Le perturbazioni pertanto non si avvicinano al nostro territorio e le temperature pensate mercoledì raggiungeranno i 21 gradi a Clusone con un clima decisamente tardo estivo. Giovedì e venerdì vedete un pochino le temperature tenderanno ad abbassarsi di 2 o 3 gradi perché l'anticiclone tenderà un pochino ad erodersi, ma sarà sempre ben saldo sul nostro territorio con temperature minime che scenderanno di un paio o due gradi, intorno agli 8 gradi a Clusone e massime che scenderanno nella giornata di venerdì a 17 gradi con uno zero termico in abbassamento a 3400 metri di altitudine. In attesa di un prossimo fine settimana che i nostri modelli matematici li danno ancora in compagnia del bel tempo e delle temperature decisamente miti. E per il mete tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.